Ragazzini, ciao, potremmo chiedervi una cosa? Avete rispettato? No, noi non vogliamo. Per favore, voi che sembrate così drogati, non è che avreste dei soldi da prestarvi? Mi piange, guarda, sto spettando il... Ma Santa Lauren, non c'hai un cazzo di euro da quella borsa di merda che... Ho i soldi del biglietto, mi piange. Non avevo niente, davvero. E a bene, con quel raffarecchio non c'hai neanche... No, niente, davvero. Eppure è costato molti soldi. E' mia madre, non io. Non è sempre il ciccello, l'unica me me è. Peccato, mi ha 34 anni. Beh, levate le chiappe da qua. Che è una paranoia. Ciao, buone feste. Arrivederci.